e ciao a tutti ragazzi vi ho abituato alcune cose strane e girando per la rete ho trovato questo interessante video di un algoritmo genetico chiamato così che data un'immagine riproduce con queste piccole barrette l'immagine stessa molto interessante ad esempio questa della torre eiffel è molto simpatica vedete data la foto della torre eiffel riproduce la torre eiffel molto bravo chi l'ha ideato e realizzato ma è questa cosa mi ha dato un'idea per generare la cosa vedere anche in 3d dall'altro molto carino guardate il mio risultato e se vi piace se vi interessa scrivetemi sotto così faccio un tutorial per farvi vedere come ho fatto l'ho realizzato in circa 10 minuti dopo aver visto il video che vi ho fatto vedere grazie a tutti 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 grazie a tutti